Questo qui è Fortnite ma alla massima grafica possibile E questo è quello che può fare giocare a Fortnite di massima qualità bro Era ketchup quello E questo video mi hanno fatto pensare come sarebbe Fortnite veramente alla massima qualità Quindi nel video di oggi ogni volta la mia qualità aumenta E questa è la risoluzione più bassa che potete avere su Fortnite Bro io non riconosco, cioè mi sembrano nei quadrati le persone Benvenuti sulla Playstation 1 ragazzi Però è figo, c'è da dire che è vinto Sì è figo, è una bella, proviamo a fightare subitissimo Sono così dire se riusciamo a hitare qualcuno Cioè il dubbio ti vuoi hitare, non è uccidere, ok? Ah ma perché c'è qualcuno? Perché non vedo nulla, sai com'è? Ovviamente in tutti i quadrati sono un po' strani Rega attenzione c'è già sta il primo nemico da me Allora io ho un'arma e non so se è un pro o una R Ti giuro non capisco nulla Aspetta bro tranquillo Oddio, oddio, oddio Bravo Bro ti posso anche dire che non si capisce un cazzo onestamente Non si capisce nulla ma tranquillo che adesso te la faccio io Perché con questa risoluzione vietica sono molto forte Cioè io sono abituato tanto Muori, muori Voglio il bot, fra Ma come il bot? È lui Nooo Stavi sparando al bot bro Beh siamo atterrati, abbiamo finalmente una qualità degnitosa Cioè si possono riconoscere i nemici finalmente Grazie lo vedo, quello che c'ho davanti è incredibile ti giuro Lo so, lo so, lo so È una sensazione veramente veramente assurda Il problema è che ci stanno tanti nemici bro E qua non dobbiamo morire assolutamente Ma c'è il nemico o il cane? No non c'è più il nemico, non ti preoccupare Cioè l'ho ucciso, molto easy Attenzione arriva il suo nemico, sei tu che sai con la zip lines Aspetta, 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 aspetta Lo faccio muori, lo faccio muori Let's go E raga abbiamo già due kill con la qualità media Ma ricordo che l'obiettivo è quello di arrivare alla massima qualità E ogni volta che moriamo dobbiamo cambiare Quindi bisogna stare molto attenti Bess, ma tu non vedi la gente, zio povero Invece di saltare con quel rapto Let's go to bush with the raptor Allora, signori, attenzione, vai Bert, bravo Vabbè, a terra, vabbè Allora, posso dire che è abbastanza facile Moco la risoluzione così Guarda questo qua Guarda questo qua dove scappa Il cucciolo Dove vuoi andare? Riparte tutti with the raptors C'è sta altra gente So much many peoples Let's go Lo sai cosa ci facciamo noi quei nemici? I c***o Che prendiamo la c***o E ci mangiamo dentro Mi sono tirato onestamente però Signor Best Ci sta a gentaglia Vabbè però Cioè scusatemi adesso Io non vorrei essere offensivo Però ma con chi c***o stiamo giocando Però posso dire che non è neanche divertente così Cioè dobbiamo aggiungere qualche complicazione nel senso Il cavrone davanti a me Ma che Ma che cosa stanno facendo bro? Ma cosa stanno facendo bro? Gli tiro un boom Mica Che non fa nulla Meno male che gli hai tirato frate Pegati sto cecchino Aia porco due Non è male Non ci morire Non ci posso morire bro Non ci posso morire bro Aia 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 Non è vero Non è vero Aspetta un attimo che lo faccio fuori Ah uno di vita Uno di vita Uno di vita Uno best Spamma L'altro uno di vita L'altro uno di vita Spamma Ma con cosa spammo che non ho per stumare? Spamma Non è possibile Se muori da questo qua che c'è veramente È white bro Era white letteralmente No ma tu sei una testa di miglia No 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 Tu Tu Schifoso Schifoso Redoro Non puoi morire così Era white Regà è il momento della massima qualità su Fortnite Ma questa volta per vincere ho bisogno di qualche rinforzo E ragazzi questa è la massima qualità di Fortnite E oltre di così non posso andare Ma guardate sta zona quanto è bella C'è un nemico qua ragazzi Sono morto Addio Addio No è morto Refe Non dirmelo Addio Eh no Non te lo dico Te lo dico In teoria è peggio con sta grafica Cioè è molto più difficile giocarci Perché la gara è mia Refe no Refe No Refe Sì ma mi devi salvare Powa Porco mondo Sei qua No mi devo fare il big Mi devo fare Ok Raga lì dietro Raga lì dietro lo vedo Ma non so se vedi quanta vita ha il tuo Refe Ma guarda che Powa Refe sopra Refe sopra Sto arrivando Powa Ma sei deficiente Sono dovuto arrivare prima io di Powa Ma veramente imbarazzante Ma in verità c'ero anch'io Semplicemente mi stavo facendo il mio big Se no ragazzi morivo Io sono scioccao Questo è un rincoglio Sì no guarda che Powa veramente Sei veramente Comunque per favore Uccidete questo s*****o Che deve andare a vincere Da partita con la massima qualità di forza I gentilmente Non posso più morire Sta qua sopra ragazzi Gli ho fatto un 35 Però sto qua è abbastanza bravino Powa se mi dai una mano almeno a me Oh senti sono qui Più di così cosa vuoi No aspetta che si deve fare un bello scildone Anche lui eh Cioè Infatti no perché Già non è capace di fightare Se più non si tira almeno lo scildone Chilato 1 signori Porco 2 Dov'è 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 D'altra parte di pianeta D'altra parte di pianeta D'altra parte di pianeta Mi spara Eeeh guarda che questo qua gli piace eh Ragazzi ci stanno persone pure da me qua sotto eh Se volete venire Con calma bro Io sto sempre senza shield Perché Powa si fa gli shieldoni davanti a me Scusami è che È così che funziona Aia Ucciso Spara spara vero spara Let's go Questo lo prendo io Ma Riff tu non puoi prendere le armi forti Sei scarso E soprattutto laghi Powa Powa intanto Con quanti FPS stai giocando Con quanta qualità stai giocando Stai zitto Stai zitto Cioè sinceramente non mi fega nulla L'importante è che io faccia le kill E signori Seconda kill per me Vi devo dire Che secondo me Sto giro Andiamo a vincere tranquillamente ragazzi Questa qualità mi farà vincere Farà vincere tutti voi ragazzi Mi raccomando Vi lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Codici RF Nel negozio incetti Per supportarmi sempre e per sempre Al massimo Ragazzi ci sono delle persone Che probabilmente sono cieche qua davanti Cioè Io ero fermo Non mi ha preso una volta Oh Un HP Ha uno di vita regà All'età avete uno di vita E adesso non ho più vita Let's go Come dov'è Pua è già nel cielo Ci sta salutando dall'alto RF Se vuoi lasciarmelo Mi hai rubato per Neanche per farto Cioè è impressionante No io non ho parole Quanti kill hai Raff Ah 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 Due due Eh Raff Hai meno kill di me Comunque ragazzi Guardate l'acqua Guardate che be Ragazzi comunque Gioca rafforzare Con questa qualità grafica Ti dà una sensazione Di essere veramente In un mondo reale Pua Come cazzo stanno Pua ma sei rincoglionito Meritano No non ero io No le granate erano sue Perché non mi hanno colpito No non erano mia Craccato 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 Uno Let's go Let's go baby Ragazzi vi giuro che non erano mie le granate Erano due Non erano mie Semplicemente non ti hanno preso Sai com'è Ne avevo uno dietro Che ho appena ucciso Comunque ragazzi Vi vorrei far notare una cosa Queste sono le prestazioni alfa E questo è la massima grafica di Fortnite Eh ferro Eh zio io vedo Vedo gli stili piccolini Ma bruttissimi La qualità La qualità altissima Mi sento veramente Mi sento Tarzan Se sono non fossi una mucca Ragazzi ci stanno tre tizi davanti a me Sono da solo Potresti venire a darmi una mano Eh la mucca sta arrivando Ah c'è un altro messo Guarda esattamente Quattrocento metri Riesco ad arrivare ragazzi Forca va Questi quali Cattivissimi Aia Oddio E' un nuovo Avere aiuto Aiuto Ok buona serato Se riesco a cerchirarlo raga Non è un fenomeno Ha solo dormito meglio Ragazzi Sono morto Sono letteralmente dentro un albero Pua restami per favore Eh no perché devo prima ucciderlo Scusami Pua dai restami Pua fai serio No veramente sei morto L'ho visto cavolo Eh si sono morto veramente bro Eh purtroppo è così che funziona la vita Oh refe ma fammi capire Sempre il fericottero ti deve restare Senti stai zitto Guarda che qua c'è una Una difficoltà al qual certa A giocare con queste impostazioni ok Perché sarà pure fighe da vedere Ma faccio 60 fps d'accordo Quindi tutto questo mi stanno sparando tutti a me raga Ci tengo a sottolinearlo Aia 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 Certoso certosino ragazzi sopra di noi R845 Mamma mia comunque ragazzi Gli ho fatto tipo mille di danno veramente Guarda che è i ground che hanno Reve vatti questi bulbi oculari qua che ci sono Mamma mia i bulbi oculari Grande poa Guardate ragazzi siete pronti per questa super kill Secondo me non siete pronti Oddio 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 Raga l'ho ucciso Raga l'ho praticamente ucciso Ragazzi l'ho ucciso Gli ho fatto Gli ho fatto uno scopo L'ho ucciso L'ho praticamente ucciso Fra E l'ho craccato io Che scanto Ma non quello lì Quell'altro Quello con la skin grigia Si starà facendo pure le cure Ok a casa va Ok 108 No 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 Mio dio Ne ho trovato uno Ok ne ho ucciso uno Mamma mia Ok bro Era quello che avevo distrutto Vedi Tutto torna Tutto torna cosa poa Sei un pippone del capo frate Dai stai zitto Dai stai zitto Bro La mia scheda Non me neanche ho preso la scheda Dai Mi pare che ho preso la scheda Dai da un pippone del genere Comunque ragazzi ve lo dico Siete fortunati che c'è Però che vi classe Ho laserato anche quello Quello lì raga Quello lì che avevo lasciato Tipo un HP Eh si pesate Gli ho fatto 65 Vabbè si potrebbe essere curato Nel frattempo Eh mister grassa Cazzo Vai 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 Spamma 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 No devi spammalissimo Oddio è morto ferro Eh se gli spammassi Mamma mia F ma che mi racciai Sinistra Reppe Sinistra Zio povero Eh fra ho capito Non è che i colpi infiniti Ma dove cazzo sei Non è che i colpi infiniti Zio povero Allora Reppe fai una cosa Vai via Va veramente Vai via Fidati Non ti conviene rischiare Dai zitto Che sei una sega Tu Dai Dai che non duri niente Tu cracchi la gente Vecchio E le cracco io Facendo i 150 Zio povero Letteralmente Tu devi fare gli azioni Anzi tu devi fare I non scopi in giro Rife devi andare Dove devo fightar con me O meglio andare adesso Con la scheda Con le schede Non le prenderei mai Come cazzo faccio a prenderle Se ci stanno 357 persone Ma aspetta Vai a prendere prima Il medico dove stavo E poi prendi E schede con calma C'è a strafare Li sta pushando Altra gente Ti ma sono fuori Sì ma sono fuori safe Un attimo Le schede 357 parte Ma ti ricordo Che sono 120 secondi No Poi cagare Poi Poi Sto zitto Che è meglio Ma che cazzo Ti fai Adesso Che è 55 Ma si Ma easy Bro Devi usare Le 3 Ci sta al medico Dall'altra parte Minchia E ne prendi due Sì ma va avanti La safe togli di più Dopo Ma toglie uno Refe fatti Refe fatti Refe fatti il suo Succhiaffoso Oh raga potete stare zitti Per favore E corri Vai a rischia Gentilmente Esatto Nessuno non aveva capista Sta cagata qua Che ci sta questo cosa qui Tu ti ha Refe Fai quello Refe Fai quell'altro Vabbè non è che cambia tanto Abbiamo visto Eh no Non cambia tanto Signori C'ho un casino davanti a me Soprattutto un altro tipo Alla mia sinistra E io vorrei che non starei lì Ferro guarda cosa ti ho lanciato Perché non lo prendi Ho un medikit forse Cosa cavolo devo fare Tirami quello Nel posto del medikit È normale Ferro devi stare vivo Devi sopravvivere Tu poco non mi interessa Non esseramente Ma tu devi stare vivo Capisci fratello mio No ragazzi Non avete idea di quello Che sto vedendo Raga non avete idea Di quello che sto vedendo Perché tu stai andando a pushare Amo Non ho capito questa cosa Non sto andando a pushare Proprio questa è la cosa Tu uno Ma tu uno raga Eh ma io sto andando a pushare Perché non ho letteralmente nulla Proprio questa è la cosa Ci stiamo andando tutti A uno di vita L'ho distrutto Vai 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 sto pushando Cioè sto sparando Eh beh sto benissimo A uno di vita però Mi dai una mano un po' qua Sono da te Sono da te zio No 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 Non l'hai ricaricato Ti dico solo questo Aspetta Vieni qua Vieni qua ferro C'è un botto di loot Ok qua c'è un altro Vai 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 Raccato a uno Raga No abbiamo tutto E io non ho Raga io c'ho letteralmente tutto Qua c'è letteralmente ogni cosa Raga Aia E ci sta anche un nemico Che ti ha ammazzato Let's go No raga che palle Non ho Raga safe è velocissima Togli due E sta safe Io non ho col Faro di mica Assalto Sì ma Ti servono cura vita No 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 Quelle no Quelle no Mi servono solamente Cura assalto Ragazzi siete due di due Siete voi due contro quelli dietro Io ho capito Andiamo in safe Che siamo a posto Ti prego Finciamo questa partita Raga ma quelli dietro Ho perso No non è quello dietro Ce ne abbiamo uno davanti Ah pure Ma cos'è tipo una rincorsa Alla safe La jump Ho preso Let's go Ragazzi qua l'ho clacciata io Scusatemi se ve lo dico Sempre adesso che arrivare Mi dispiace Mi l'ho clacciata io ragazzi Vi ho rebuttato Vado tutto io Vi ho dato gli slurp Con cui ferro è riuscito Ad arrivare in safe Sì ma non gridare il gatto Se non ce l'hai nel sacco Vedo sopra 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 raga Sopra Destra Come ha fatto quello Di arrivarci in safe Scusa Non finisce Non finisce male Siamo due di uno Se perdiamo Siamo stupidi Ok Nel due di uno c'è ferro In CMR Esatto Infatti 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 Oh questo che cavolo è Mongral Sì che cazzo è Lo faccio pure io domani mattina Vada Sì si 23 23 Sassito Ragazzi Scusa come vedere la luce Del sole dal 41 Allora ferro se tu muori In questo caso Siamo morti tutti Ok Vai tranquillo Io intanto c'ho like E un attimo lo domo Questo animale È feroce capito Lo Dominic Toretto Allora guarda inizia a spammarli Inizia a fare il mio comando Ah ma questo è un fenomeno vecio Non è bravo davvero Devi stare attento Le fai Sì vai tra Vai tra Sì È il re Cioè questo qua è fenomenale Guarda che devo fai tarro Vai 94 Sì ma il bomba Non può fare così poco in testa Dai che andiamo Ragazzi vi giuro che sto tenendo Le chiappe strette per questo file È un fenomeno Questo va il re Cioè questo va il re Oh Il re non è forte quanto ferro Let's go Let's go signori Vi ha vinto con la massima grafica di fare Di cercare al prossimo video Se non vi sia giusto Quello stesso tutto Bella regà Ciao